Wila! Ciao da Svideo! Oggi per la rubrica video risposte farò una video risposta al video di RoboJoker Pensieri e videogiochi. La vita. Che cos'è la vita? Vai col video! La vita, si sa, è un dono prezioso. La vita è essere importanti per se stessi e per gli altri. La vita è cercare di ottimizzare la propria persona in un cammino di formazione. La vita è trovare uno scopo, una realizzazione, un'affermazione che convinca noi stessi di ciò che siamo e che vogliamo essere. La vita a volte è inseguire un sogno e da volte è più bello arrivarci sempre vicino senza mai riuscire ad afferrarlo subito perché dopo quando l'hai già afferrato potrebbe essere solo una bolla di sapone. La vita è svegliarsi al mattino e dire Che figata! Anche oggi sono ancora vivo! La vita è riuscire, se si può, anche lasciare il segno tangibile di essere vissuti. Qualcosa che resti nel tempo. Almeno per me mi piacerebbe fosse così. La vita è ridere, soffrire, amare, piangere, lottare, discutere, abbracciarsi, capirsi, comunicare, emozionarsi, resistere a dure prove, far volare il proprio cuore, affrontare le paure, Credere in ciò che possiamo offrire al mondo perché la nostra esistenza è importante Vivere è salire su una giostra di emozioni Delle montagne russe che ti faranno salire con i momenti più belli della tua gioia Ti faranno scendere velocemente con il più vivo dolore Ti faranno andare a testa in giù provando adrenalina quando farei qualcosa un po' fuori dalla tua comfort zone Ma elettrizzante ed appagante Io ho pagato il biglietto e non vorrei mai scendere Bene ragazzi, ciao da Svideo, spero che il video vi sia piaciuto Ciao e ringrazio ancora RoboJoker per fare quella rubrica bellissima che è pensieri videogiochi Io vi metterò il link del video a cui ho dato questa risposta E niente, seguite il canale di RoboJoker, ovviamente anche il mio Svideo che è in 74 Ciao da Svideo